Cerimonia semplice e familiare questa mattina al poliambulatorio Giovanni Paolo II di Casa Sollievo della Sofferenza, dove l'arcivescovo di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, che è anche presidente dell'ospedale, ha benedetto la nuova PET-TC. Si tratta di una macchina di ultima generazione che impiega la metà del tempo e che emette la metà delle radiazioni, garantendo una notevolmente migliore qualità delle immagini rispetto alla precedente, che è stata utilizzata per 12 anni prima di essere sostituita. A descrivere all'arcivescovo le caratteristiche della PET-TC benedetta oggi è stato il dottor Elio Perrone, dirigente medico responsabile dell'unità operativa semplice di competenza, che successivamente ha mostrato a padre Moscone le immagini generate dallo strumento diagnostico. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il nuovo direttore generale di Casasollievo della Sofferenza, dottor Michele Giuliani, l'uscente dottor Domenico Crupi e il direttore scientifico, professor Angelo Vescovi. L'evento inaugurale è stato caratterizzato da un fuori programma. Ad attendere l'arcivescovo c'era un anziano sacerdote di Rutigliano in provincia di Bari, Don Nicola del Nero, che aveva fissato un appuntamento per un breve incontro. padre Franco lo ha salutato al suo arrivo e dopo aver appreso da lui, che ha 87 anni e 60 anni di sacerdozio, lo ha voluto accanto a sé durante la benedizione e ha voluto condividere con lui il rito dell'aspersione.